Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà Tutto quello che il Padre possiede è mio Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà Pace bene amici e ben ritrovati in questa solennità della Trinità perché oggi celebriamo la festa del nostro Dio Uno e Trino che si presenta a noi come un unico Dio ma è nello stesso tempo Padre, Figlio e Spirito Santo E non è un mistero che noi possiamo capire completamente non come tutti gli altri misteri perché riguarda Dio e riguarda un modo di presentarsi di Dio nella storia della fede cristiana che è totalmente diversa da quelle che viene concepita entro qualsiasi religione che noi possiamo leggere, studiare, conoscere e che esiste sulla faccia della terra Il nostro Dio è un Dio unico, non sono tre dei quelli che noi adoriamo ma è in tre persone I tentativi nella storia sono innumorevoli per cercare di capire e di parare un po' questo mistero ma siccome è dentro una logica di fede noi possiamo capire qualcosa ma non tutto Agostino nei suoi numerosi studi e nelle sue profonde riflessioni è giunto a spiegare in qualche modo plausibile il mistero della Trinità presentandolo sotto una veste affettiva e psicologica vale a dire che questo grande dottore della Chiesa afferma che il Padre siccome la natura di Dio è amore Dio è amore, scrive Giovanni nella sua prima lettera Il Padre è amore, questo amore è così focondo da dare origine, utilizziamo dei termini impropri al figlio e il Padre e il Figlio si amano di un'intensità e profondità tale per cui questo amore si personifica nello Spirito Santo che proviene dal Padre e dal Figlio Detto questo non abbiamo ancora detto niente però noi portiamo dentro, marchiato a fuoco nella nostra natura e nel nostro essere l'immagine e la somiglianza di Dio quindi avvertiamo nella nostra carne questo bisogno di relazionarci noi non siamo apostoli, non ci sentiamo bene ci sentiamo soli quando escludiamo gli altri dalla nostra vita quando non ci impegniamo a rimanere aperti e a collaborare e a crescere nella nostra relazione con gli altri ecco questo sintomo che avvertiamo nella carne è un segno di come noi siamo fatti ed è anche un modo di spiegare Dio, di spiegare Dio un etrino vale a dire che portiamo dentro la nostra carne questo desiderio, questa sete, questo sogno di comunione ecco il Padre da solo non poteva stare in comunione con nessuno Dio, se fosse stato Dio, una sola persona non poteva reazionarsi con nessuno prima della creazione del mondo, della storia dell'umanità però il Figlio, Gesù Cristo, ci ha detto che Lui è il Padre su una sola cosa non solo ma esiste anche lo Spirito Santo e allora questo desiderio di comunione si realizza soltanto nella misura in cui noi ci apriamo agli altri e questo desiderio di comunione è segno di come è fatto Dio e allora cerchiamo di affidarci a questo Spirito Santo che secondo il Vangelo di oggi ci dice essere profetico ci condurrà alla pienezza della verità fino a questo punto noi abbiamo capito qualcosa e abbiamo camminato dentro le logiche e le strade della fede ma è ancora molto quello che ci rimane di scoprire e conoscere questo Spirito che Gesù ci ha lasciato come il Consolatore come colui che ci condurrà alla pienezza della verità e dell'amore ci avvolge perché è come il vento, dicevamo settimana scorsa ci avvolge, è presente dappertutto in ogni luogo, in ogni momento della storia ma anche della storia della nostra vita e questo Spirito, se noi lo ascoltiamo se noi non rimaneremo chiusi alla sua voce, ai suoi suggerimenti, alle sue emozioni questo Spirito ci condurrà dentro una verità sempre più profonda dentro questa comunione, questa relazione tra di noi e nella Trinità Pace bene amici e buona festa della Trinità adoriamo il nostro Dio che si presenta ed è Padre, Figlio e Spirito Santo a risentirci alla prossima domenica a risultato Grazie.